Benvenuti amici di Socialintech, eccoci alla video recensione di questi due caricatori, due charger della Anker, qui abbiamo scartato il 735, nella confezione il 717 come leggete qua, si tratta della serie 7 e quindi di caricatori compatti, potenti di Anker che andiamo a vedere subito dopo la sigla. Ed eccoci qui, quindi partirei con il serie 7, 735 che è già scartato, abbiamo qui la scritta Gun Prime, quindi la potenza più distribuita per questi charger per caricare in maniera intelligente, veloce ma intelligente allo stesso tempo, perché all'interno di questi caricatori vi è un chip che va a dare la potenza direttamente ai dispositivi in maniera regolare, in maniera equilibrata, quindi si va a distribuire in maniera differente in base ai dispositivi che abbiamo collegato ad essi. Quindi in questo caso andiamo a togliere qui questa pellicolina e possiamo vedere che in questo caso il 735 si compone di tre porte. Abbiamo questa più in alto che viene descritta come di riferimento per caricare un computer, poi abbiamo quindi due USB-C, una USB-A e diciamo che il massimo di potenza di distribuzione per quanto riguarda il 735 è di 65 Watt. Per cui questa più in alto va a 65 Watt in singolo, 65 Watt anche l'altra USB-C e invece dall'altra parte per quanto riguarda la USB-A si tratta di 22.5 Watt di potenza. Nel caso in cui vogliate invece collegare i due dispositivi, allora in questo caso riuscirà a fare un massimo di 65 Watt da USB-C con USB-A oppure con entrambe le USB-C attaccate, quindi sarà distribuito una massima potenza di 65 Watt in proporzione ai dispositivi che andrete a collegare oppure nel caso abbiamo la possibilità se volete caricare con la seconda USB-C e la USB-A, allora in questo caso avete 24 Watt di potenza, si purtroppo scende, però diciamo che la seconda porta è quella un po' meno potente se ci collegate un secondo dispositivo alla USB-A. Per quanto riguarda invece tutti e due, la parte alta di USB-C e la USB-A vi ricordo 65 Watt e in singolo invece 65 Watt entrambe le due USB-C. Un prodotto davvero molto bello, interessante perché? Perché è compattissimo, come potete vedere sta tranquillamente in una mano a differenza di quello della Apple che intanto non ha tante uscite o al massimo quello nuovo con due uscite comunque non è così compatto. Quindi 65 Watt potete caricare tranquillamente il MacBook Pro senza alcun problema. Ma vado un attimino veloce e andiamo sull'altro caricatore, questo qui abbiamo la confezione direttamente, abbiamo il caricatore e sotto qua invece abbiamo la classica guida, anche il manualetto, molto semplice. Andiamo a togliere il tutto, andiamo a vedere questo caricatore, abbiamo detto la serie 7, il 7 e 17. Quindi in questo caso diciamo le dimensioni cambiano e cambiano particolarmente, vedete la differenza tra questi due. Ma in questo caso abbiamo una sola entrata, un solo foro ed è quello USB-C, come potete notare. Togliamo anche in questo caso la velina che c'è. Allora, questo caricatore è sempre in questo caso con GAM Prime, quindi abbiamo il massimo dell'intelligenza, il massimo della potenza distribuita in maniera equilibrata. Cosa succede? Questo caricatore arriva a ben 140 Watt di potenza ragazzi. Quindi veramente immenso, potete caricarci di tutto, dallo smartphone al computer, veramente veramente di tutto. C'ha solo un'unica entrata, però guardate qua quanto è compatto. Anche questo sta tranquillamente in una mano, questo rettangolino davvero ben fatto. Poi anche in questo caso molto bella questa colorazione nera opaca per i suoi dispositivi. Guardate che belli, molto piccoli, 65 Watt, il 735, 140 Watt per quanto riguarda il 717. Con questo che dire ragazzi, mettete un mi piace se vi è piaciuta la recensione, potete commentare qui sotto, ma vi ricordo di cliccare sulla campanella affinché possiate ricevere le notifiche dei nostri video. Un saluto da Federico per Socialentech. Ciao!